Il rapporto sulla qualità dell'aria in Abruzzo nel 2021 fa emergere dati molto positivi. Le concentrazioni medie sono al di sotto dei limiti di legge per tutti gli inquinanti. I livelli delle polveri sottili, ad esempio, per tutto l'arco dell'anno passato, sono sempre risultati inferiori ai limiti previsti dalla norma, mentre in nessuna delle 16 stazioni di misurazione gestite da Arta Abruzzo è stato superato il valore limite giornaliero per oltre 35 giorni, il numero massimo di superamenti annuali previsti dalla legge. L'Arta ha notato anche dove i valori sono più elevati, ma comunque al di sotto dei valori limite, nelle centraline dell'agglomerato urbano, che include i sei comuni di Chieti, Pescara, Monte Silvano, Sportore, San Giovanni Tiatino e Francavilla al Mare. I livelli annuali del cosiddetto particolato, invece, sono risultati inferiori al valore obiettivo su tutto il territorio regionale. Anche per questo inquinante, le centraline ubicate nell'agglomerato Chieti-Pescara evidenziano valori più alti rispetto alla zona caratterizzata a maggiore pressione antropica, che ricomprende anche i comuni dell'Aquila e Teramo. Entro i limiti anche le concentrazioni medie di biossido di azoto, l'inquinante legato al traffico veicolare, i cui valori sono risultati più elevati nei centri abitati delle principali città, e in particolare a Teramo. Per quanto riguarda l'ozono, si sono registrati solo 12 superamenti del limite nei mesi di luglio e agosto. Entro i limiti di legge, infine, anche i valori di benzene, monossido di carbonio e anidride solforosa, il direttore generale dell'Arta, Maurizio Dionisio, fa notare che la situazione generale dell'aria in Abruzzo non desta preoccupazioni, sia nelle zone a maggiore pressione antropica, che nell'agglomerato Chieti-Pescara, che ha circa 280 mila abitanti. Situazioni locali comunque che vanno tenute sotto controllo e l'Arta proseguirà con controlli e monitoraggi. La nostra rete di rilevamento è efficiente, è efficace, i dati pervengono e l'analisi complessiva dei dati abruzzesi permettono di concludere che la nostra regione ha una qualità dell'aria buona. Alcune criticità esistono in grossi agglomerati urbani e dipendono anche da fattori come la situazione meteorologica ed altri, ma la valutazione complessiva, che è quella che a noi interessa, è globalmente buona. Ci sarà un controllo continuo, soprattutto laddove magari avete rilevato delle criticità, che però non vanno mai oltre i valori limite, diciamo? Sì, in quel caso si possono anche studiare delle diverse soluzioni in ordine alla frequenza del posizionamento delle stazioni di rilevamento e a breve avremo una novità, ovvero un laboratorio mobile che potrà all'uopo recarsi e fare anche campagne mirate di raccolta di campioni d'aria che poi verranno portati nei nostri laboratori per vedere cosa in essi è contenuto.